Analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione e critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. È iniziata la maturità per gli oltre 50.000 studenti siciliani che dopo due anni di pandemia si sono ritrovati seduti nei banchi in quella che è la prima vera prova importante, la loro vita. Da Pascoli a Segre fino a Covid Ambiente, le tracce della prima prova, comprensione, analisi e interpretazione di una poesia di Giovanni Pascoli, la via ferrata. L'autore scelto per l'altra traccia di analisi del testo in prosa è Giovanni Verga con il brano Nedda, bozzetto siciliano. Per l'analisi di un testo argomentativo, la sola colpa di essere nati di Gerardo Colombo e Liliana Segre. Entra nell'esame anche la pandemia, grazie alla tipologia C che riguarda l'attualità. Ai maturandi è stato infatti proposto un testo tratto da Luigi Ferraioli perché è una costituzione della terra. Una traccia dell'esame di maturità riguarda l'iperconnessione, una riflessione a partire da un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. C'è anche la comprensione e l'analisi di un testo tratto da Oliver Sacks, musicofilia. Domani, seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo. Quest'anno sarà predisposta dei singoli istituti che potranno così tener conto di quanto effettivamente è svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico, anche in considerazione dell'emergenza pandemica. È previsto poi il colloquio che si aprirà con l'analisi di materiale scelto dalla Commissione. Il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito contenuti e metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione e un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un presidente esterno. La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico è stato attribuito fino a un massimo di 50 punti, fino a 15 punti per la prova di italiano, fino a 10 per la seconda prova, fino a 25 al colloquio. Si potrà ottenere la lode. L'esame di maturità 2022 vede cadere l'obbligo di indossare la mascherina. Viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze, quali ad esempio l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. L'esame di maturità 2022 vede cadere l'obbligo di indossare la mascherina.